Il via libera della Confederazione Episcopale Italiana non basta e i frati Cappuccini del Santuario Padovano di San Leopoldo si preparano a celebrare la Novena del Santo che culminerà nella festa il 12 maggio con la speranza che dal Vaticano arrivi la buona notizia. Sono quasi 70.000 le firme che accompagnano la richiesta di far diventare San Leopoldo patrono dei malati di tumore. È stata accettata questa domanda da parte di tutti i vescovi italiani con un voto unanime che è stato fatto il 15 novembre scorso. Adesso stiamo aspettando il sigillo ufficiale della Santa Sede, il decreto che nomina padre Leopoldo patrono dei malati di tumore. Il frate Confessore nato a Cattaro in Montenegro ha vissuto a Padova buona parte della sua vita. Durante le celebrazioni della Novena al Santuario arriverà Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, che presiederà la celebrazione del 12 maggio, ma anche il superiore generale di tutti i Cappuccini del mondo, Fr. Roberto Genuin, che domenica 5 maggio benedirà la nuova statua a linea di San Leopoldo, opera degli scultori per a toner di Ortisei, che è stata posta all'interno della Cattedrale del Duomo, di fronte all'altare di San Gregorio Barberigo, dove spesso padre Leopoldo si recava per venerare il Santo Vescovo di Padova, rinnovando il suo impegno ecumenico per l'unità dei cristiani. Non c'era prima, adesso accanto a quella di San Leopoldo, di Sant'Antonio, ci sarà quella di padre Leopoldo. E il parroco, i fedeli del Duomo, hanno voluto collocarla proprio vicino all'altare, di fronte all'altare di San Gregorio Barberigo, dove padre Leopoldo andava ogni anno per rinnovare il suo voto, il suo impegno, di offrirsi, di pregare per l'unità di tutti i cristiani, in maniera particolare per i cristiani di Oriente e di Occidente. La festa di San Leopoldo sarà preparata dal pellegrinaggio, durante la novena, dal 3 all'11 maggio, delle diverse parrocchie del vicariato di Crespano del Grappa, che offrirà quest'anno l'olio che alimenta la lampada della riconciliazione, sempre accesa sopra la tomba del Santo. Qual è l'attualità di San Leopoldo? L'attualità di San Leopoldo è quella che hanno sottolineato anche i sommi pontefici, Paolo VI quando l'ha beatificato e Giovanni Paolo II quando l'ha canonizzato. Ecco, direi che è il Santo della misericordia, è il Santo della riconciliazione, è il Santo dell'unità, è il Santo dei ponti gettati verso tutti, è il Santo della pace interiore, è il Santo che manifesta il volto buono e paterno di un Dio che è papà, che è mamma, che ci sta vicino, che è contento di perdonare i nostri sbagli se ci vede un attimo pentiti, se ci vede che abbiamo desiderio di cambiare. Questa è la grande attualità.